Eccoci con Cristian Cervesato, quest'anno è partito poche volte titolare, poi ce lo dici tu eventualmente, perciò quando giochi penso che c'è entusiasmo e voglia di dimostrare, di essere presenti e dare il proprio contributo. Anche oggi sei entrato al posto di Dodorico e hai fatto la tua parte, vittoria forse anche un po' sofferta, però sono quelle che danno anche forse più soddisfazione. Come hai visto la partita e come vedi da qua alla fine? Intanto tornando il discorso di prima che sono entrato, tante partite sono subentrato, c'è una grande concorrenza, ci sono dei esterni come Costa, è partito benissimo, Pavan è bravissimo, è in questo momento però un problema fisico che devo ancora risolvere, quindi pian piano tornerò in forma, spero. La partita l'ho vista dura, loro una bella squadra, almeno in posizione messa benissimo e soprattutto fisica, perché loro erano messi bene fisicamente, tutti i colpi di testa, contrasti, ne abbiamo vinti meno della metà, questo è poco sicuro e alla fine l'abbiamo vista brutto con l'occasione che si sono trovati tutto per tutto col portiere. Sì, loro nel girone di ritorno sono state una delle migliori squadre, se togliamo la sconfitta di domenica scorsa, erano tra le prime due o tre, perciò una signora è squadra. Spirito di spogliatoio per arrivare fino alla fine, insomma ancora in forze come si dice? Beh, spogliatoio è bello unito e ci stiamo allenando a mille, ci stiamo divertendo un sacco, ho visto proprio, ma anche dalla panchina proprio, siamo preparatissimi, ci stiamo allenando in settimana perché fino all'ultimo non sappiamo chi gioca, chi non gioca, il mister non ci dice, non ci fa capire niente e quindi fino al venerdì andiamo al massimo. Allora, per chiudere questa intervista, visto che è anche la prima volta che ci sentiamo, tu prima hai accennato di un piccolo guaio fisico, un problema fisico, possiamo specificarlo meglio? Ho un'infiammazione sull'attaccatura del quadricipite, non riesco a capire da dove deriva il problema, se arriva dalla schiena o se arriva magari a un problema. L'hai avuto tutta la stagione? Sono quasi tre mesi che ce l'ho, quindi ho sempre saltato il martedì, mercoledì, martedì, mercoledì, venerdì, quindi diciamo che negli ultimi tre mesi mi sono allenato. Perciò entrare a partita iniziata forse è anche la soluzione giusta perché forse così non devi reggere i 90 minuti che forse con il problema che hai può essere problematico. Esatto, soprattutto a parte il fatto che non li ho, però adesso con questi 20 minuti già tra un'ora che si raffredda mi fa malissimo. Bene, allora ringraziamo Cristian per la disponibilità e diamo appuntamento a tutti domenica al Mecchia. Grazie Cristian. Grazie a voi. Grazie a voi.